In questo momento c'è un'indagine alla procura che merita rispetto e attenzione. Ci dispiace constatare chi, pur nel cercare un po' di visibilità, alza i toni screditando quello che di fatto è non solo l'amministrazione ma l'intera classe politica. Non dobbiamo stupirci poi quando il 50% del corpo elettorale di Palermo va a votare. Quindi parlate di strumentalizzazione sugli episodi di corruzione? Non possiamo dire neanche strumentalizzazione però diciamo che ci dispiace constatare chi è in cerca di visibilità. Lo dice chi rispetto a questa posizione già indipendentemente dall'indagine in corso era contrario a questi piani costruttivi per tanti motivi. Diciamo che in città ci sono 15.000 alloggi che meritano di essere ristrutturati, la linea politica di Sinistra Comune era anche quella di consumo del suolo zero. E poi non dimentichiamo che in città c'è un fattore di emigrazione molto alto e quindi la necessità di avere edilizia ci lascia un po' perplessi. Siamo dell'avviso di destinare quelle aree per un'edilizia sociale e quindi aumentare quegli spazi per un utilizzo pubblico. Le opposizioni si stanno muovendo per raccogliere firme, per mandare avanti una mozione di sfiducia al sindaco. A proposito di questo voi come vi muoverete, come vi comporterete? Come dicevo poco fa noi intanto siamo molto prudenti rispetto alla presenza di un'indagine in corso della magistratura. Diciamo che c'è una procura molto attenta, un'indagine coordinata da un magistrato di altissimo livello quale il dottor De Montis. Quindi noi chiaramente il sindaco aveva espresso l'opinione, il suo pensiero di votare contro questi piani costruttivi, anche in tempi non sospetti. Quindi la nostra posizione, la posizione del sindaco era in linea rispetto a questi piani costruttivi. Eravamo assolutamente contro. Abbiamo votato contro, il gruppo consigliare di sinistra comune ha votato compattemente contro. E' stato, credo che sia stato l'unico gruppo che ha votato contro questa delibera. Al di là di chi oggi cerca visibilità abbiamo preso atto che al momento del voto è scappato via dall'aula.